A fiume freddo di Sicilia le trattative non possono più fermarsi perché non è più tempo di aspettare. I tempi si stanno facendo stretti e ancora ci sono tante idee ma circoscritte in una cornice di grande confusione. Il primo scatto in avanti l'ha fatto il gruppo dei fidarelliani insieme a Fratelli d'Italia e altre forze civiche. Lunedì potrebbero essere sciolte le riserve sul candidato sindaco con l'attuale vice sindaco Angelo Torrisi che dovrà dare una risposta. Il primo cittadino Marco Alosi invece sta lavorando con il PD e con il gruppo Fiume per capire se ci sono le condizioni per proporre un progetto di continuità rispetto all'attuale amministrazione ma ancora non trapela nulla sulla ricandidatura di Alosi. Mentre invece è chiaro che bisognerà aspettare i primi di marzo per sapere se Sebastiano Nucifora si ricandiderà. Sul fronte dell'ex pretoriano di Lino Leanza c'è una situazione particolare. Infatti se Nucifora non dovesse candidarsi non sembra esserci un'alternativa, il Giambattista di Bella della situazione per intenderci. Con Sebastiano Nucifora sarebbe un discorso con un progetto mix di cambiamento e restaurazione dell'impero che fu. Ma senza Sebastiano Nucifora la musica potrebbe cambiare, potrebbero aprirsi nuovi scenari con un imponderabile gioco di incontri e di riunioni dove tutto può accadere e probabilmente non è un caso che anche il Movimento 5 Stelle prenda tempo. È ufficiale che i grillini saranno della partita ma ancora non sono state ufficializzate le modalità di selezione dei candidati sia il sindaco che al Consiglio Comunale.